C'è stato un battivecco, ma dice è dall'inizio della partita che insultano, dicono ci sono dei professionisti dell'insulto, lo so, ma parliamo di altro, hanno tirato in mezzo un po' i familiari di Spalletti, la mamma in particolare, ha minimizzato Spalletti, però lì per lì si è arrabbiato perché dice dall'inizio alla fine c'è una litania che ti accompagna. Grazie, io essendo anche...